Hola a tutti ragazzi, mi sono il vostro Luke e oggi finalmente dopo tantissimo tempo siamo tornati qui in un video importante Perché dico così ragazzi? Perché oggi vi chiedo una cosa fondamentale Volete che porto avanti questa serie? Ebbene si ragazzi vi faccio subito questa domanda Molti si chiederanno Luke perché ne hai caricato video questi giorni? Perché non hai fatto nemmeno tante live questi giorni? Raga praticamente per questo motivo Sono in pieno stato di confusione Semplicemente devo pensare a fare una cosa Ossia o propongo ancora questa serie o cambio serie Inoltre sto programmando anche di portare Armatree, CSGO, Battleground e diversi giochi sul canale E quindi sto cercando di guadagnare tempo per organizzarmi Di conseguenza raga vi devo chiedere un grande favore Ossia se volete che questa serie sia portata avanti Lasciate tanti like A più non posso e condividete soprattutto Però ragazzi non arriviamo a un certo tot di visualizzazioni Perché dico questo? Perché le visualizzazioni sappiate non mi portano soldi Che siano 1000 o 2000 non portano soldi Bisogna fare altri numeri per i soldi Ma semplicemente perché con le visualizzazioni posso vedere il vostro interesse Così come con i like e i commenti Di conseguenza raga se vedo che questo video avrà delle statistiche penose La serie si stopperà e cercherò di creare nuove serie Mentre se questo video avrà buoni risultati Continuerò a portare la serie anche in compagnia di Midicaccio Con il quale non ho ancora parlato riguardo alla serie Perché devo ancora pensare se porta l'amanti Quindi raga spero che il video di oggi vi sia piaciuto Sì non è durato nulla perché devo chiedervi questa cosa importante Sinceramente non ho voglia di perdere tempo appresso questa serie In caso che non la vogliate più Magari utilizzo questo tempo per organizzare video di armatrì e altri video belli Comunque raga spero che il video di oggi comunque vi sia piaciuto Fatemi sapere assolutamente cosa ne pensate Se la serie è il caso di portarla avanti oppure no Mi raccomando like, commento, condividete ma soprattutto iscrivetevi al canale Domani penso che uscirà un nuovo video forse proprio su armatrì Non ve lo assicuro Detto questo ragazzi Bella